Buongiorno, bentrovati, buona domenica. Oggi è la domenica dopo l'ottava di Natale. Ecco il Vangelo di oggi secondo il nostro di Tambrosiano. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nazareth, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia, aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai cecchi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca. Parola del Signore Il percorso che facciamo in questo tempo di Natale non è un percorso cronologico, ma un percorso teologico. Oggi infatti ci incontriamo con Gesù Grande, più che trentenne, che torna a Nazareth dopo il battesimo di Giovanni, quando già ha cominciato a fare molti miracoli e predica nella sinagoga del suo paese. Tra pochi giorni, mercoledì Epifania, ci incontreremo di nuovo con Gesù Bambino, adorato dai Magi. Non quindi un percorso cronologico, ma teologico. La liturgia vuole farci contemplare chi è il bimbo nato per noi, chi è Gesù. E appunto il Vangelo di oggi lo proclama come il Cristo, cioè il consacrato del Signore. Lo dice Isaia, lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione. Gesù è consacrato con l'unzione dello Spirito Santo, che è disceso su di Lui con abbondanza nel battesimo. Egli già era figlio di Dio, lo è sempre stato e sempre lo sarà. Ma col battesimo riceve la missione, si manifesta quella missione che ha sempre ricevuto fin dal principio, di andare a portare il Vangelo. E a Nazareth lo dice chiaramente. Con l'inizio della vita pubblica, con l'inizio dei miracoli e dell'annuncio del Vangelo, Gesù si manifesta, si rivela quale il Cristo. Ecco allora che oggi siamo invitati a contemplare in Gesù l'unico Salvatore dell'uomo. E dobbiamo dire, come ci insegna Paolo VI, Tu ci sei necessario. Tu ci sei necessario. Senza Gesù non è possibile avere né salvezza né pace. Tu ci sei necessario, o Cristo, o figlio di Dio. Ecco allora che Gesù è mandato per annunziare il Vangelo ai poveri. In Lui si realizzano le promesse dei profeti antichi. Lui è l'atteso di tutti i popoli del mondo. Anche oggi. Là dove molti lo hanno dimenticato e molti non l'hanno conosciuto, Egli è la segreta speranza di libertà che sta nel cuore dell'uomo. Noi che lo conosciamo, rafforziamo la nostra fede e diventiamo nei testimoni. Buona giornata. Buona domenica. Preghiamo gli uni per gli altri. Sialo dato Gesù Cristo. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata.